Benvenuti a questo nostro incontro finale dedicato alla guerra fredda. Si è detto che l'Unione Sovietica implode per motivi economici, in effetti semplificando si può dire che non riuscì ad agganciare quella che si definisce la terza rivoluzione industriale, quel rinnovamento della produzione fondato su alcuni pilastri che sono l'uso del computer, del telefono cellulare e della rete Internet. Ad una economia già compromessa, in situazione critica, si aggiungono le enormi spese militari che l'Unione Sovietica doveva sostenere per il mantenimento del suo ruolo di superpotenza mondiale. Per cercare di salvare il sistema compromesso, quindi Gorbaciov a partire dal 1985 inaugura una nuova linea politica di ristrutturazione del sistema, del sistema stesso, la politica della perestroica. Tre sono i pilastri principali su cui si basa questo nuovo corso, la trasparenza interna, una parziale apertura all'economia di mercato e un nuovo avvicinamento agli Stati Uniti per la stipula di trattati che prevedano la riduzione degli armamenti tra le superpotenze. Gli effetti più potenti di questa nuova politica sovietica si registrano nei paesi satelliti, ad iniziare dalla Polonia. In Polonia infatti dal 1988 si intensificano gli scioperi promossi dal sindacato cattolico polacco Solidarnosc, guidato dal suo leader Lec Wawensa. Si arrivò così nel 1989 a libere elezioni e alla presidenza della Repubblica, a partire dal 1990, dello stesso Wawensa. Occorre ricordare che un ruolo nella democratizzazione della Polonia lo ebbe anche Papa Giovanni Paolo II, Karol Wojtyla, che era polacco, che aveva contatti con Wawensa e che lo incontrò anche successivamente alla sua elezione al pontificato in più occasioni. Dalla Polonia il contagio positivo raggiunse l'Ungheria che nello stesso 89 finalmente tornò alla democrazia dopo la repressione brutale che aveva subito nel 1956 l'insurrezione di Budapest schiacciata dai carriarmati sovietici nel 1956. Nell'89 finalmente torna la democrazia e l'Ungheria apre anche il confine con l'Austria, è il primo cedimento della cortina di ferro. In questo modo però crea un corridoio per collegare le Germanie, quindi dall'Austria all'Ungheria alla Germania Est. Il muro di Berlino ormai ha davvero poco senso e infatti la notte del 9 novembre del 1989 i berlinesi si ritrovano sotto il muro e in un clima di euforia il muro viene aperto e poi progressivamente smantellato. E' questo un momento forte della storia europea e mondiale recente perché è il segno fisico dell'abbattimento di quella cortina di ferro che aveva separato due mondi a partire dal 1947 e aveva sostanzialmente diviso il mondo in due parti. L'onda travolse poi gli altri stati, i satelliti, quindi la cecoslovacchia sempre nell'89, cecoslovacchia che alcuni anni dopo nel 1993 si divise in due parti, quindi la Repubblica ceca e la Slovacchia, poi la Bulgaria progressivamente e nello stesso 89 la Romania dove fu giustiziato il dittatore Ceauzescu. A questo punto l'Unione Sovietica inizia a franare. Questi erano stati satelliti dell'Unione Sovietica ma repubbliche comprese nell'Unione Sovietica iniziano a partire dal 90 a proclamare la propria indipendenza. La prima è la Lituania nel 90 seguita dalle altre repubbliche baltiche, la Lettonia e l'Estonia e poi da repubbliche asiatiche fino a arrivare alla Russia stessa. Nel 1990 il presidente del Parlamento russo Boris Yeltsin rivendica l'indipendenza russa e la fine dell'Unione Sovietica. Il segretario Gorbachev cerca di impostare una riforma per trasformare almeno l'Unione Sovietica in una confederazione di stati indipendenti. C'è però un tentativo di colpo di Stato per mantenere in piedi il sistema sovietico che viene tuttavia bloccato e così si arriva nel dicembre del 1991 con precisione il 21 dicembre del 1991 alla firma del trattato che segna la fine dell'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica esce dalla scena mondiale sostituita dalla CSI, la Confederazione di Stati Indipendenti, che è una confederazione di stati con piena autonomia ancora oggi presente. Si chiude così il 21 dicembre 1991, una lunga fase della storia mondiale recente, una fase che si era aperta nel 1947 e aveva visto il mondo schierarsi intorno a due superpotenze, o gli Stati Uniti o l'Unione Sovietica. Quel bipolarismo globale crolla definitivamente nel 91 e si apre una nuova stagione nella storia dell'umanità e nella storia d'Europa. Grazie. 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 Grazie.